Mancano di fatto sette giorni lavorativi alla novità urbanistica dei parcheggi per San Giovanni. Con la partenza degli stalli a pagamento sia in via Vetrivecchi che in piazza Firenze, nonché il passaggio dell'intera area di via Due Giugno per i residenti del centro, sprovvisti di garage per la cosiddetta ZCS, oltre alla necessità del discorario per tutti gli altri avventori. È in fase di scrittura e sarà approvata in giunta la prossima settimana però la parte di regolamento che riguarderà il pendolarismo. I lavoratori che quotidianamente devono prendere il treno per recarsi a Firenze, Arezzo e altri luoghi dovranno recarsi al punto Amico in via Rosai e compilare l'apposito modulo di autocertificazione. A tutti questi sarà quindi consegnato un contrassegno che riporterà anche il numero di targa dell'auto da esporre in modo chiaro e visibile e che permetterà di fatto di poter usare l'area di sosta per l'intera giornata, a differenza degli avventori del centro storico per i quali la sosta massima rimane di 180 minuti dalle 9 alle 19. Il passaggio definitivo delle aree di sosta a pagamento sarà anticipato per l'intera prossima settimana da apposita segnaletica e dal 2 maggio dunque scatteranno le prime sanzioni per gli indisciplinati.